Allora, con i sé e con i ma, fare politica ai tempi dell'antipolitica. Questo è il titolo di questo volume di cui è autore. Allora partiamo da qua, partiamo dal titolo. Che cosa si vuole dire? Vogliamo dire che la buona politica è necessaria. Io vengo dalla famosa generazione del 68 in cui tutto era politica. Poi abbiamo attraversato un'altra stagione in cui della politica sembrava che non ci fosse bisogno, era il mercato che doveva regolare le cose. Poi siamo oggi quasi al disprezzo della politica. Siete tutti uguali. Questi atteggiamenti rischiano di non produrre la soluzione delle questioni. Allora io dico c'è bisogno di un ritorno a una politica buona, fatta di buone parole, di buoni fatti e di capacità di risoluzione dei problemi. In questo libricino spiego un po', secondo me, come si dovrebbe cercare di fare, a quali valori fare riferimento per riscoprire appunto quella politica che è a servizio del cittadino e dare anche al cittadino un po' più di speranza. Ma io penso intanto che bisogna essere ottimisti. Il pessimismo non ci porta da nessuna parte. Questo dire non ne vale la pena, appunto, sono tutti uguali, non si risolvono mai i problemi. Può essere anche una constatazione, ma bisogna avere fiducia nel futuro. Fiducia anche in noi stessi, avere un atteggiamento più di speranza. Io nel libro cito ad esempio nella parola tempo questo fatto che io penso che una delle grandi crisi istituzionali e politiche sia dovuta al fatto che il cittadino ha avuto nella propria vita dei cambiamenti rapidissimi. È cambiato il rapporto di lavoro, è cambiato il modo di fare scuola, sono cambiate le sicurezza sociali che sono meno di una volta. Mentre il tempo della politica sembra essere sempre fermo, infinito. Io penso che il grande successo che ha avuto Renzi, sia vincendo le primarie del Partito Democratico, sia portando il Partito Democratico al 40% dei consensi, anche qui al nord, sia proprio questo avere affermato, per me il tempo conta. Se dico una cosa, devo dimostrare al cittadino che in un tempo certo la porto a compimento. Questa secondo me è la grande novità di Renzi e penso che dobbiamo aiutarlo e dobbiamo sostenerlo perché poi se c'è uno che dà il buon esempio tutta la politica segue. Anche gli oppositori dovranno misurarsi su questa novità. Non può che far bene al Paese.